Non gliel'ha gridato dentro, non gliel'ha gridato, lui era scottato, lui era ammazzato, assassini, delinquenti, criminali, brutti criminali, 18 anni a Begani, un po', Dio ti malemita, casassina, casassina criminale. Concesse le attenuanti generiche nella loro massima estensione, è una sentenza che... 16 anni solo, dovevano buttare la chiave, dovevano buttare. Ma l'importante è che li facciano? La chiave dovevano buttare Marcini in carcere. Ma, 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 ma le sigarette. Un impasto criminale, assassina.